Saluti da Acropalati, oggi un piatto molto interessante, leggero, veloce, risotto con broccoletti e anche cavolfiori. Come sapete i broccoletti e i cavolfiori sono un ottimo toccasano per la salute in quanto da alcune ricerche scientifiche molto importanti che attribuiscono caratteristiche antitumorali, quindi fatte in un grande consumo. Però per poterli rendere al massimo, se non si perderebbero tutti i suoi valori, conviene farle prima a vapore, cucinatela a vapore, poi un classico risotto con olio extravergine d'oliva, un po' di sale e il gioco è fatto. Poi tutto in una buona domenica ad Acropalati, provincia di Cosenza.